Piro Emotions Intende stupirvi con un progetto innovativo di alta qualità e d'assoluta precisione Suoni, colori, emozioni Un intreccio magico, capace di rendere unico ogni evento Una fusione tra tecnica e melodia Il nostro obiettivo è quello di farvi sognare Vi auguriamo una buona visione Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!